Una volta ho scritto in uno dei miei diari vorrei poter toccare con la punta delle dita i contorni di quest'epoca. Ero seduta alla mia scrivania allora e non sapevo bene come accostarmi alla vita perché non l'avevo ancora toccata dentro di me. Ho imparato a farlo mentre ero seduta qui. Poi ad un tratto sono stata scaraventata in un centro di dolore umano uno dei tanti di cui è disseminata l'Europa. E là, sui volti delle persone su migliaia di gesti, piccole espressioni, vide raccontate su tutto ciò ho improvvisamente cominciato a leggere questo tempo. Come un insieme compiuto. Non solo questo tempo. Avevo imparato a leggere me stessa e così ero in grado di leggere anche negli altri. Era proprio come se le mie dita sensibili sfiorassero i contorni di questo tempo e di questa vita. Com'è possibile che quel pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato dove si riversava e scorreva tanto dolore umano sia diventato un ricordo quasi dolce. Che il mio spirito non sia diventato più tetro in quel luogo ma più luminoso e sereno. A Westburg ho letto un tratto del nostro tempo che non mi sembra privo di significato. Sì, ho amato tanto la vita quando ero seduta a questa scrivania ed ero circondata dai miei scrittori e dai miei poeti e dai miei fiori e là tra le baracche popolate da uomini scacciati e perseguitati ho trovato la conferma di questo amore. La vita in quelle baracche piene di correnti non contrastava affatto con la vita in questa camera protetta e tranquilla. Non sono mai stata tagliata fuori da una vita per così dire passata. Per me esisteva solo una grande e significativa continuità. Come potrò descrivere tutto questo? Come potrò far sentire quanto la vita sia bella e degna di essere vissuta? E giusta? Sì, proprio giusta! Forse Dio mi concederà quelle poche e semplici parole? Parole che siano anche colorite appassionate e seri ma soprattutto semplici? Come posso rappresentarlo con poche, tenere, leggere e robuste pennellate? Il piccolo villaggio di baracchi tra cielo e brughiera come posso far sì che anche altri leggano dentro a tutte quelle persone finché non ci si trova davanti ad un unico grande e comprensibile insieme? Un corniciato da cielo e brughiera. Una cosa è certa non potrò mai scrivere le cose come la vita le ha scritte per me in carattere viventi. Ho letto tutto con i miei occhi e con tutti i miei sensi ma non saprò mai raccontarlo allo stesso modo. potrei anche disperarmi per questo se non avessi imparato che dobbiamo accettare le nostre forze insufficenti però con queste forze dobbiamo veramente lavorare. Ciao